Tra un mese, il 16 novembre, si corre la Maratona di Torino. L'evento che richiama ogni anno migliaia tra podisti e visitatori è stato presentato a Palazzo Lascaris. È sconfermato il percorso della gara che attraversa Torino, Moncalieri e Nichelino. Partenza da Piazza San Carlo alle 9.30 e arrivo in Piazza Castello poco più di due ore dopo per i primi, nel pomeriggio per gli amatori. Nello stesso giorno si correranno anche la Stratorino e la Junior Marathon. La corsa sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Le riprese saranno prodotte dagli organizzatori e trasmesse con le nuove tecnologie LTE. Ma diversamente dall'anno scorso non verranno usati i droni, viste le nuove regole che li vietano sugli assembramenti di persone. Le riprese dall'alto saranno da postazioni fisse.